Buongiorno a tutti gli iscriviti, anche le persone in Telegram, ho un'update sul canale, ora abbiamo un sito che si chiama zvids.com, che si vuole diventare un'advertizzer, ok? Quindi, magari, non so, in questo video, magari c'è un'advertizzer come questo, quindi vi faccio capire, per esempio, se vi applicate questo sito, perché stanno cercando nuovi youtuber, quindi se vi applicate prima del 15 di luglio, perché stanno cercando nuovi creatori, quindi, io sono un referente, quindi se vi applicate prima del 15 di luglio, ottenete ogni video, magari 50 dollari, se vi applicate in zvids.com, e tu diventate un nuovo adverizzer, e poi ci sono stati adverizzer come questo, vedete? Come questo, vedete? che si vede? In vostri video, questo è molto professionale, come questo, vedete? Si ottenga il guida, ok? Con questo video, perché sono un'intelligenza artificiale che si mette l'advertizzer come qui, Quindi dovete fare un video come questo, dovete avere niente, il tuo cibo, quindi potete mettere l'advertimento qui. E se lo applicate, prima del 15 di mezzo, mi pagano 100 dollari, perché sono già in questo programma. Perché stanno cercando Europa e America. Perché questo sito è da New Zealand. Ogni volta che cercano di creare partner in Cina, Asia, Hong Kong. Ma mi dicono che stanno cercando di un nuovo youtuber in America, come come in Europe. Quindi sono il primo, sono il pioniero. Quindi se lo applicate prima del 15 di mezzo, mi pagano 100 dollari in questo video. Ehm... 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 Il suo studio. In unамиino. Ehm... 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 Che ho scena i questo video, ma... Ehm... Ehm... Cosa... Ehm... 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 Il mio studio. in Advertise, che stanno cercando nuovi creatori, come me, perché si chiamano americani, ok? Stanno cercando nuovi collaboratori americani. Quindi, se si applica oggi, o comunque questo giorno, prima di 15 maio, mi pagano 100. E tu puoi avere molti creatori, perché anche, quando ti applica, ti chiedono di essere un referente come me. Quindi ho l'idea in Telegram, che potrebbe essere in questo programma, perché il video è molto perfetto, ogni volta che si parla così, si può avere l'advertise, così, quindi si può avere 50 dollari ogni video, perché anche il mio video, sai, è 600 views, così, ok? Mi ha 30.000, ma a volte ho un video con 50 views, quindi diciamo, il medio del video è 600 views ogni video. Quindi, perché ho 600 video e 16.000 subscribers, e mi pagano 50 euro ogni video con l'advertise, che si comparano così. Quindi, come funziona questo? Il manager contatta ti, dopo che ti dico il link di referente, puoi avere il tuo account qui, in zviz.com, e poi devi uscire il video, che ti downloadi da YouTube, poi lo uploadi in zviz, poi prende uno o due giorni, quindi, qui, ti uploadi il video che ti chiusi, prende due giorni, poi lo compagno nella biblioteca, qui, e c'è l'originale video, e poi lo compagno nella biblioteca, che significa che stanno mettendo l'advertise, in questo video, come vi mostro. Quindi, prende uno o due giorni, che l'intelligenza artificiale mette l'advertise, come questo, qui. C'è l'advertise 2D, che è come un poster, ma anche l'advertise 3D, quindi, è come, devi avere una tavola, quindi, si mettono come questo, l'advertise 3D, un caffè mug, o un batto, dipende da l'advertise che si chiusi per il tuo video. Quindi, è un programma molto bello, io ho applicato già, perché ho parlato molto con il manager, il manager dice a me, a dire a altri Youtubers, quindi, se vuoi applicare questo, ho messo il link di riferimento qui. Quindi, anche voi, vengono 50$ ogni video, se dicono che il tuo video è ok per questo programma. Quindi, non c'è tempo per aspettare, applicate oggi. Ciao, vedete nel prossimo video.